Il Consiglio della provincia autonoma di Bolzano è stato convocato dal 12 al 15 settembre per l'ultima assemblea della sedicesima legislatura. In questa occasione sono stati approvati tre disini di legge della maggioranza. Il primo riguardava il debito fuori bilancio. Si trattava di approvare per legge debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa come ad esempio le spese per l'esame venatorio dove si erano presentati più candidati rispetto al passato e la Commissione ha impiegato perciò più ore del previsto. La legge di stabilità provinciale per l'anno 2024 e il bilancio di previsione della provincia autonoma 2024-2026 sono stati trattati insieme. Il bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'anno 2024 prevede per competenza 6,66 miliardi di euro e per la cassa quasi 8 miliardi di euro. Si tratta di un bilancio tecnico cioè di un bilancio che non prevede nuove allocazioni dato che ci si trova alla fine della legislatura. Approvata anche una mozione dei verdi e del team ca sostenuta anche da alcuni consiglieri della SVP. La mozione obbliga la giunta provinciale nel contesto della tutela del gruppo del sasso lungo e dei piani del confin a supportare i comuni interessati a coinvolgere la popolazione nell'elaborazione partecipativa dei piani di sviluppo sovracomunali. La popolazione deve poter partecipare alle decisioni riguardanti lo sviluppo futuro della zona di tutela delle acque, dei piani del confin e del gruppo del sasso lungo. Sull'ordine del giorno anche le relazioni della commissione d'inchiesta Virneus Noi e di quella del trasporto pubblico locale. La commissione Virneus Noi ha presentato una relazione tecnica approvata all'unanimità dai membri della commissione. Per la valutazione politica dei lavori sono state presentate invece cinque relazioni di minoranza, una ciascuno di Südtirol e Freiheit, Partito Democratico, Liste Civiche, Movimento 5 Stelle, Team K e Verdi. Per la commissione d'inchiesta sul trasporto pubblico locale è stata presentata invece una relazione di minoranza di Freiheit, Team K, Südtirol e Freiheit, Fratelli d'Italia, Perspective für Südtirol, Enzian e Movimento 5 Stelle. Approvate anche due mozioni presentate dalla SVP. La prima vuole rafforzare gli esercizi ricettivi a livello locale, cioè le osterie e i bar di paese, rivedendo gli attuali criteri per la concessione degli incentivi e prevedendo adeguamenti volti ad un sostegno ancora maggiore degli esercizi ricettivi a livello locale. La seconda prevede di semplificare il riconoscimento della formazione professionale conseguita all'estero dagli altoatesini e dalle altoatesine.